EOS 2020, Stender Rizzini, Giuseppe Rizzini, siamo a presentare il BR-220, ultima novità, fucile gamma caccia, liscio ovviamente. Giuseppe, siete sempre presenti ogni anno con delle novità in grado di attirare l'attenzione dei cacciatori. Ci vuoi dare due notizie su questo modello che si presenta esteticamente già molto bene, impattante proprio a prima vista? Esatto, anche quest'anno abbiamo una bella novità, si chiama BR-220, è un nuovo modello, lo proponiamo in tutti i calibri, quindi 12, 16 su bascula 12, 20, 28 e 410 su bascula 28, esatto. Qui abbiamo in mano un calibro 20. Questo è un calibro 20, quindi abbiamo uno splendido ornato, eseguito a laser e ripreso completamente a mano, in questo caso... Chi l'ha realizzata, la bottega giovanelli? Esatto, abbiamo fatto la bottega giovanelli. Nel caso del calibro 12,20 per il paesaggio e soggetti venatori abbiamo anatre e fagiani, invece nel caso del 28 abbiamo i colini Bob Quail. Quindi adattiamo il calibro alla selvaggine. Esatto, esatto. Benissimo. Parlando... Senatore di canna, calcio a principe di galles. Può essere bigrillo, monogrillo su richiesta, il calcio può essere a pistola tonda oppure all'inglese sempre su richiesta, legno di qualità 2,5. Calciolo in legno. Calciolo in legno, lucidato ad olio. Molto bello. Garanzia di 10 anni come su tutte le nostre armi. Peso e prezzo di questo calibro 20 che abbiamo per le mani? Questo calibro 20 pesa circa 2,8 kg. Bello. Bilanciato, bello. Ed il prezzo è circa 3.590 euro. Iva, sempre. Sempre IVA inclusa. E quindi ancora una volta non mi resta che... Con gli strozzatori intercambiabili, compresi nel prezzo, quindi già un fucile adatto per sparare palini d'acciaio. Perfetto, questa è una notizia importante dato anche il periodo storico in cui stiamo vivendo. Quindi a questo punto non mi resta che ringraziarti per la presentazione e dare appuntamento al momento della prova dove presenteremo l'arma sul campo di tiro. Grazie. 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 Grazie.